Gli smartphone sono sempre più costosi e di questo potremmo anche parlarne, magari ci faccio un video, ma molti di voi comunque li acquistano ugualmente dopo una spesa di questo tipo, a volte di migliaia di euro, non solo centinaia, magari come dire volerli preservare nel tempo, quindi utilizzandoli bene, è una cosa che vorreste fare. Tra tutte le parti dello smartphone, quelle che risentono di più dell'uso magari sbagliato, ovviamente la batteria, che per fortuna può essere sostituita anche con gli smartphone moderni che non hanno lo sportellino, ma se non volete dopo un paio d'anni trovarvi con una batteria da cambiare, ci sono alcuni accorgiamenti d'uso che se adottate vi permetteranno di tenere la batteria in saluto e comunque andate a risparmiare soldi. Vediamo quindi quali sono le cattive abitudini, no? E quindi quello che non dovreste fare o dovreste fare, vedetela come volete, per evitare di rovinare la batteria. Lasciate un mi piace, iscrivetevi, qui trovate anche i capitoli e si va! Le batterie con chimica a base di litio, ma non solo in realtà, danno il loro meglio con una carica compresa tra circa il 20-30% e l'80-85%. Quando dico danno il loro meglio, significa che non soffrono, cioè al contrario, quando sono completamente o quasi cariche o scariche, la chimica appunto di cui sono composte pone sotto uno stress elevato l'uno o l'altro pollo delle celle. Diciamo che l'ho detto in maniera abbastanza grezza. Ho fatto un video però dettagliato, in quel caso parlando delle batterie delle auto, ma vale per tutto, quindi nel caso in cui volete sapere di più, ecco, cercatelo nel mio canale. Sappiate che quando la batteria non è completamente carica o scarica, si trova in uno stato che, continuando con la semplicità, possiamo definire più bilanciato, c'è meno stress e quindi meno possibilità di danneggiamento, o meglio, meno possibilità di deterioramento delle batterie stesse. Lo scaricamento completo è chiaramente sotto il nostro controllo, dato che vediamo lo stato di carica della batteria e quindi possiamo decidere quando e se mettere o no lo smartphone sotto carica prima che magari raggiunga un'autonomia troppo bassa o che si scarichi completamente. La ricarica invece completa è un po' meno sotto il nostro controllo perché ovviamente molti di noi cosa fanno? Io stesso prendo lo smartphone, magari la sera, lo prendo, lo lascio sotto carica durante la notte, lo vado a riprendere la mattina dopo e quindi non è che posso puntarmi la sveglia per andare a staccarlo prima. Alcuni produttori permettono addirittura di bloccare la ricarica della batteria a una percentuale che non sia il 100% e lo fanno proprio per questo motivo che vi ho appena raccontato, altri invece non lo fanno. In ogni caso sappiate che i produttori di smartphone si lasciano sempre un tot di capacità di spazio, ecco non la caricano veramente tutta al 100% anche se voi vedete 100% proprio per evitare questa situazione di massima carica e vale anche al contrario, quindi quando avete 0% in realtà è rimasta un po' di carica. Ma ora che lo sapete, soprattutto per la parte di scaricamento, se evitate lo 0% è meglio e soprattutto se lo raggiungete non lasciate assolutamente la batteria a 0 per troppo tempo perché in questo caso il rischio di danneggiamento è decisamente concreto, è alto. Da quando è arrivata la ricarica veloce per molti è una pacchia, no? 15 minuti alla mattina prima di andare al lavoro e sono a posto per tutto il giorno. Bene, la ricarica veloce in realtà deteriora la batteria, in alcuni casi in che maniera consistente? Perché lo stress di carica e l'alta temperatura sono due nemici giurati della chimica della batteria. A onor del vero ci sono alcune scuole di pensiero in questo caso, soprattutto ultimamente, che dicono no no non è vero che la ricarica veloce deteriori la batteria. Io ho i miei dubbi, anche perché abbiamo anni di studi e poi c'è la base della chimica e del funzionamento della batteria che dice solitamente il contrario, quindi io mi chiedo se effettivamente dietro questa nuova scuola di pensiero non ci sia più una spinta marketing, una spinta di azienda. Ma siccome ci costa poco, perché rischiare? Ecco io sono di questa cosa. Per ribadire quindi se voi prendete due smartphone identici e uno lo caricate sempre con la ricarica veloce e l'altro lo caricate normalmente, tecnicamente, ecco il deterioramento della batteria, quindi la sua anche capacità massima totale, si abbasserà molto di più velocemente sullo smartphone che viene caricato sempre con la ricarica veloce. Quindi stringendo, usate la ricarica veloce come opzione quando necessario, ma se avete la possibilità di scegliere e non avete bisogno di ricaricare lo smartphone per forza in 10 minuti, scegliete la ricarica standard, quindi quella lenta, quella normale. Per tutti i motivi che ho appena citato potreste voler attuare alcuni accorgimenti sul vostro modello d'uso per evitare appunto di arrivare magari sempre a zero con la batteria, no? Che è anche fastidioso, oltre magari a creare dei problemi. Come facciamo a evitare questa cosa? Ecco, pensate ad esempio tutte le volte che utilizzate lo smartphone senza utilizzare la luminosità automatica dello schermo, no? E magari state lì con lo schermo sparato al massimo anche quando non serve, che poi magari quando l'ambiente è anche un po' scuro avrà anche fastidio. O magari tenete sempre attivo GPS, o magari tenete varie applicazioni attive in background che si aggiornano anche quando non li state usando. O magari utilizzate YouTube per ascoltare la musica? Vi vedo, vi vedo tanti in palestra che siete lì con lo smartphone per terra YouTube che va allo schermo acceso solo per ascoltare la musica. Non ha senso, consuma energia e consuma dati in maniera inutile, non lo state guardando. Perché l'utilizzate in questa maniera? Chiudete le app, spegnete lo schermo quando non serve, evitate insomma che lo smartphone lavori per cose che in realtà sono completamente inutili, non vi servono. Create anche inquinamento direttamente, ok? Vi permette di risparmiare quel tot di batteria che magari vi porta a sera non con lo zero ma con il 20, con il 30%, così evitate ogni volta di tenere per ore la batteria sotto uno stato di stress non necessario. Questo punto è un po' limite, però lo dico ugualmente. Caricare la batteria a temperature molto molto basse non aiuta perché chiaramente lo sbalzo termico, lo sbalzo di temperature può modificare la chimica della batteria stessa, rovinare, rovinare la chimica, rovinare i poli, diminuire la capacità di carica, le prestazioni e quindi in generale la durata della vita della batteria. Chiaramente non so quanti di voi si troveranno in situazioni di questo genere in maniera continuativa, no? Quindi magari con un ambiente sotto zero, però nel caso ecco, ora lo sapete. Questa è invece una situazione più normale, magari l'avete fatto tante volte, no? In quest'estate che adesso piano piano sta andando a sfumare. Sempre per una questione di temperatura in questo caso, però al contrario, no? Cioè lasciare lo smartphone al sole, lasciandolo riscaldare, che poi magari si riscalda ancora di più quando lo state usando, significa portare la temperatura della batteria, non solo a livelli spaziali, no? E oltre. E diventa non solo l'uso fastidioso dello smartphone, ma impatta negativamente sulla sua vita. Se poi siete masochisti e lasciate lo smartphone in carica al sole, eh allora mi sa che ve la state cercando. Poi state facendo una ricarica veloce, ad altissima potenza con lo smartphone al sole, allora meritate chiaramente di essere puniti con il letteralmente istantaneo, ok? Vabbè, sto scherzando, chiaramente però non si fa. Un ultimo punto. Evitate di usare alimentatori economici. No, da pochi euro. Usate quelli originali o usate sostituti di brand famosi e sfidabili. Non è tanto la questione della potenza erogata, di quella chiaramente ne ho già parlato prima e vale, ma è proprio la qualità, cioè il modo in cui l'energia viene erogata. Alimentatori economici con cavi economici non sono proprio al massimo. E in questo caso c'è addirittura forse il rischio proprio di danneggiamenti della batteria stessa, piuttosto che dettoriamenti a lungo termine. Qualche euro in più per l'alimentatore e un cavo che costa più di un euro sono soldi ve spesi. Amici, vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Se volete aggiungere qualcos'altro o parlarne, facciamolo qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche sui miei social e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!